buona giornata cari amici eccoci qui con la rassegna stampa di oggi 12 febbraio 2018 questa è la prima edizione ricordo che la rassegna stampa è edita da RST Science e Pianeta Oggi TV le lezioni dimenticatevi i programmi e guardate le persone guida il voto consapevole per evitare gli impresentabili insomma sul fatto quotidiano.it trovate un interessantissimo articolo su questo argomento comunque viene pubblicata appunto l'introduzione della rivista rivista dall'autore del Vecchio Chiavanza insomma i fatti, le storie protagoniste insomma edita da Chiarelettere sta il Vecchio Chiavanza e da oggi in tutte le librerie un ombrello per non uscire completamente fradici dalla pioggia del prossimo marzo senza dimenticare che da sempre gli amministratori peggiori vengono eletti da quei bravi cittadini che non vanno a votare andate a votare quindi mi raccomando Nadia Toffa ho avuto un cancro, ora l'ho superato ma mi raccomando le uniche cure sono chemio e radio il racconto carico di emozioni della conduttrice al suo ritorno alle Iene sono stati due mesi difficili, dice il malore avvenuto a dicembre mi ha permesso di fare un check up e accorgermi del tumore e parla a nome dei malati dicendo trattateci con normalità prendeteci in giro come tutti Cina, troppi terreni agricoli contaminati entro il 2020 bonifichiamo il 90% ma costa 200 miliardi di dollari il piano è legato al primo rapporto politico del 2018 concentrata sul miglioramento dell'ambiente di vita rurale per permettere al Paese di raggiungere il suo obiettivo di costruire una società moderatamente prospera tra le iniziative è anche un allentamento delle restrizioni all'utilizzo delle terre amministrate dai villaggi dovrebbe aprire la strada a nuovi progetti residenziali e ridurre i costi degli immobili Ladro ucciso da gioie lere, un potenziale omicida in meno, complimenti non è Salvini ma il candidato del PD che dice questa frase Emilio Di Marzo, membro della segreteria regionale d'Emme ed ex portavoce del governatore De Lucco, corre nel collegio di Napoli Sud avrei preferito fosse arrestato, ha precisato via Twitter ma il cittadino inerme ha diritto di tutelarsi la sinistra è difendere i poveri cristi che faticano, non i criminali Arturo Scotto di Leo dice quando vi dicevo che il PD parla come la destra stavo sottovalutando, ed è vero Elezioni Berlusconi dice mai accordi con PD anche se non è più comunista non sono come Renzi, se dico una cosa la faccio il leader di Forza Italia alla trasmissione in mezz'ora suggerisce al segretario del PD di cambiare il nome del partito deve chiamarlo socialdemocratico propone Carlo Cotterelli come ministro dice sarà uno dei 12 tecnici, si occuperà di spending review Renzi invece tagliò lui poi attacco i 5 Stelle che sono una setta controllata dal clown di Genova con questo è tutto grazie amici vi diamo appuntamento alla prossima rassegna stampa vi ricordo che la rassegna stampa è edita da LST Science di Pianetà UGTV buon proseguimento con la programmazione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti